Ciao a tutti, sono Maria Nessusotto, neoeletta al Parlamento con il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Oggi siamo a Valleossi, una zona splendida del comune di Raclea, metà destinata all'agricoltura, metà a una bellissima laguna, con una bellissima spiaggia. Peccato che questa bellissima zona sia destinata ad un progetto di realizzazione di darsene, campi da golf e villette, insomma un piccolo regno per ricchi anziché una osi per tutti. Invitiamo vivamente la regione a ripensare a questo progetto, anzi a eliminare questo progetto e a rivitalizzare questa zona stupenda in modo che sia usufruibile da tutta la popolazione e non solo per pochi ricchi che si possono permettere barca e villette al mare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.